signori allora io stavo salendo qua perché volevo cioè tipo fare la farm di esperienze trovo diamanti con fortuna 3 1 giustamente il primo vai 5 6 più che esperienze sfecche 10 10 11 12 vabbè ci abbiamo guadagnato qualche cosa uccia neanche che tutti sul minchia ci abbiamo guadagnato 7 miliardi robas che non muoio qualche cazzo sta vabbè occhio di ragno quello lo lasciamo la allora qua qua sotto sta lo spawner quello che abbiamo trovato degli zombie nello scorso episodio ma voglio fare tipo le entrate allora io faccio una cosa io mi scrivo queste coordinate così faccio tipo il tunnel all'interno che mi porta sotto allora io mi sono scritto le coordinate di prima 3 8 3 70 vabbè è l'altezza 3 4 3 c'è quindi e si devo andare dalla c'è quindi che cazzo ne so c'è boh faccio c'è tipo così c'è quindi c'è 3 3 8 3 3 8 3 a posto c'è c'è vabbè 70 è l'altezza c'è 3 4 3 c'è quindi 3 4 3 quindi praticante quindi in pratica c'è io posso pure fare così vedere così te lo sei che cazzo è sta roba quindi io facendo questo ragionamento io posso andare anche dalla tua parte che devo calcolare sia questi numeri che questo quello centrale è soltanto l'altezza quindi si cazzo c'è quindi c'è quindi dalla serie c'è io posso fare pure pure c'è pure la robin diagonale che poi sistemo dove si 383 383 e quel 383 può stare là 343 ora devo dare tap ma du ovviamente e luce fu c'è quindi c'è 51 52 mo fu gurti sto cantando pure la mers mo fu gurt quindi praticamente e si deve andare da questa parte io primo io prima stavo andando e no devo andare da questa parte dopo 383 343 quindi io devo andare semplicemente dritto dritto come il vendo minchia e luce fu dritto come un treno minchia che vabbè io scavo un po di ferro che schifo fa dritto come in bastardi minchia 342 343 e questi a posto e quindi questo e quindi questi qua sono i blocchi perché sono c'è sono praticamente dei ciotoli praticamente è tu quando spacchi la piatta normale diventa ciottoli si è acqua e quindi e quindi se io muovo vado tutto giù vabbè qua ovviamente dovremmo fare gli ascensori d'acqua e queste minchia te qua oppure mettiamo delle piante bucchie creste e quindi se io muovo vado tutto giù dovrei trovarmi nello spawner no se ci siamo ci siamo ci siamo c ma mi raccomando facciamola a posto a posto l'abbiamo raggiunto ma come cazzo risalgo vabbè come cazzo dico sì sì gatti c'è intanto abbiamo raggiunto però io mo faccio c'è sta bella cosa c'è io mo c'è scavo pure da qua mo c'è mi c'ho cold scusa c'è culo andare allora certo che cazzo devo fa cioè giustamente un modo scavare tutti e tre c'è perché così c'è della serie sti cazzi che così c'è a posto perché così c'è così ci posso preparare già psicologicamente c'è anzi io faccio una cosa tu dici sale e scendi c'è vado c'è a posto e mo giustamente quello che ha e mo c'è e mo io giustamente questo dal centro io lo copro un po' dalla serie c'è allora visto che mo questo è stato scavato tiè fino in fondo questo è stato scavato ora bisogna mettere tutta l'acqua in fondo fammi fare una bella cosa io ve la salto questa roba perché è noiosa a posto questa l'ho messa questi mi sono serviti tiè questo tiè facciamo la caduta e mo qua ma metto un costo d'un header che veeeh cioè cioè se cioè se c'è è un po' una rotola di palle che tutte le volte ti devi fare sta strada però almeno c'è la comodità g c a posto mo vedi che cazzo è successo qua allora quindi c'è tu vai qua sali c'è problema risolto c'è tu vai qua a posto c'è così c'è vabbè ora ora c'è dovremmo giustare di modificare qua ma lo facciamo nel prossimo video c'è